Blackout ieri sera nel Comasco. A causa del maltempo un albero è caduto sulla rete ad alta tensione come testimone alla foto di un cittadino nel gruppo Facebook Sedico Mosè, mettendo fuori uso le tre cabine elettriche che alimentano l'olgiatese, in particolare le zone di Fenegrò, Luisago e Faloppio. A rimanere senza corrente molti comuni, segnalazioni arrivate anche da Lomazzo, Fino Mornasco, Cadorago, Lurate Caccivio, Bulgaro Grasso, Appiano e Cernobbio e poi ancora Guanzate e Cagno. Strade, negozi e abitazioni senza luce per ore, poi i tecnici sono intervenuti e dopo due ore hanno ripristinato il servizio elettrico. Le forti raffiche di vento hanno sradicato un albero nel parco di Porto Letizia, a Porlezza, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Serata di lavoro intenso anche per i vigili del fuoco di Como, decine le chiamate arrivate in centrale per interventi legate al maltempo di ieri sera. Le squadre sono state impegnate per il taglio di piante pericolanti allurate, Bregnano, Appiano, Cermenate e Cernobbio e poi dal Biolo, dove la caduta di un fulmine ha provocato un incendio. In serata Enel Distribuzione ha precisato che a causa dei forti temporali che si sono abbattuti in provincia di Como, si è verificato un guasto sulla rete ad alta tensione gestita da altro operatore, che ha determinato conseguenze sulla rete a media e bassa tensione e la disalimentazione di tre cabine primarie. Sui tempi la stessa società ha fatto sapere che la fornitura è stata completamente ripristinata dopo le 20. Grazie. Grazie.